è una domanda che non mi piace sinceramente la rigenerazione urbana è un termine molto ambiguo un termine nuovo un termine molto vago è importante disambiguare no 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 se vuoi ti rispondo rigenerare un luogo non significa semplicemente ridipingere un muro ristrutturare un edificio abbandonato ma fare in modo che questo torni a vivere attraverso le persone è una forma di coinvolgimento della comunità e nella coraggiattazione della città una città delle relazioni non è una città del costruito tirare via pezzi di città alla costruzione di vuoti e di turismo di lusso piuttosto che di concentrazione di capitali di monopoli avere un orizzonte più alti e non semplicemente un posto bello ma che sia significativo per le persone e utile per quelle che sono le esigenze della comunità utilizzare gli spazi complici sottutilizzati come luogo per rigenerare anche la nostra comunità